ISO GR1. L'emergenza profughi in Italia ne sono arrivati quasi 74 mila, 29 mila sono minori. Proprio il tema dell'accoglienza è stato al centro di una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione ieri a Bruxelles. Abbiamo intervistato la ministra Luciana Lamorgese. Abbiamo chiesto di poter attingere rapidamente alle risorse finanziarie europee e ovviamente per quanto riguarda l'Italia c'è stato uno sblocco di risorse. Ma si va verso un contributo diretto a chi fugge dalla guerra? No, non si è ancora parlato di un contributo diretto, si è parlato di fondi europei che poi verranno utilizzati dai singoli stati secondo le esigenze. Certo bisognerà pensare di dare dei contributi anche a coloro che accolgono in casa, in famiglia, perché molti di questi ucraini vanno a casa di parenti o amici. Cosa risponde a chi dice che la macchina dell'accoglienza è in affanno? Oggi non mi sembra che ci sia una difficoltà di gestire dei numeri che attualmente sono gestibili su 73 mila. Quando poi io andando lì in Europa vedo che gli altri ne hanno avuto 190 mila, 200 mila. Che cosa ci si deve aspettare? Certamente quello che è stato detto comunque è di prepararsi a trovare delle soluzioni anche per numeri maggiori rispetto a quelli che sono attualmente.